Lo avevano sorpreso proprio mentre stava armeggiando fra le auto di lusso parcheggiate nei pressi del Parc Dal Negro. Una volante ha intercettato il ragazzo che alla vista della polizia si è allontanato di tutta fretta. Il giovane di appena 17 anni, prima ha tentato di fuggire correndo verso la chiesa votiva, poi ha cercato di sviare gli agenti rallentando il passo per non farsi notare. Ma a nulla è servito il tentativo perché i poliziotti lo hanno raggiunto e fermato. Addosso aveva diversi arnesi atti allo scasso. È stato quindi portato in questura per gli accertamenti. All'interno del parcheggio sono state rinvenute le auto obiettivo del ride, una Porsche Cayenne, un Aston Martin e una Mercedes classe A. Tutte in sosta da lungo tempo nel complesso Dal Negro e che in particolare sono state vandalizzate con la rimozione degli stemmi identificativi della casa costruttrice ed altri elementi di design presenti all'interno dell'abitacolo. La polizia ora sta provvedendo a contattare i proprietari dei veicoli, principalmente società che le assegnano saltuariamente per ragioni di lavoro. Sono in corso accertamenti per identificare i complici del giovane che, dopo le contestazioni di rito, ha lasciato gli uffici della questura.